Ci hai preso gusto e soprattutto quest'Udinese finalmente segna su calci piazzati. È una delle vostre forze, tanto perché in difesa di testa ci sapete fare, però non erano ancora arrivati i gol in questo campionato. L'hai sbloccato tu, adesso va bene così. Mi piaceva sempre fare gol, no? Sono contento di segnare un'altra volta. Felici per la squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto una bellissima gara, ma nel secondo tempo non abbiamo fatto bene. Però esco dal campo felice per quello che la squadra ha dimostrato oggi. Però dobbiamo alzarci la testa perché c'è un'altra partita difficile contro i Cagliari fuori. Ma speriamo di fare bene, dai. Nella tua stagione, anche un po' segnata purtroppo da problemi fisici, è il momento migliore? Al di là dei gol, al di là del fatto di aver segnato gol pesanti per la squadra. Sì, sono venuto da un momento difficile, di una lesione gravissima. Quindi, con il supporto dei miei compagni, della società, ho recuperato tutto l'entusiasmo di giocare, tutta la fiducia. Quindi, sto felice di contribuire con la squadra, di fare gol e soprattutto uscire dal campo con la vittoria. Quindi, sono felice per me e soprattutto per la squadra, per quello che abbiamo fatto oggi. Poi si dice sempre, tu sei uno di quelli anche un po' più esperti della nostra difesa, si dice sempre che lo stadio di casa debba aiutare a far vincere la squadra e adesso avete infiato con questo otto risultati utili consecutivi, con una spinta importante del pubblico che avete anche trascinato nei momenti di difficoltà. Il pubblico è venuto oggi, mi ha dato un grande supporto a tutta la squadra. Hanno dimostrato di stare insieme a noi, nel momento di felicità, quindi nel momento difficile. Quindi, felice. Il tifoso, vi voglio fare un grosso complimento. Quindi, speriamo di fare bene contro i Caleri e chiedere questa stagione. Grazie. 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 Grazie.